E' appena terminato il match di quarto di finale con Matteo Viola che ha battuto lo spagnolo Carlos Tabernes e vola in semifinale. Sono davvero contento, oggi credo di aver fatto la migliore partita del torneo, fino a questo momento, adesso sono particolarmente stanco ma mi godo la vittoria. Questa vittoria vuol dire che la prossima settimana potrai giocare direttamente nel main draw di un altro challenger, quindi potrai andare a Biella? Sì, molto probabilmente sì, adesso deciderò con il mio maestro cosa fare, nei prossimi 15 minuti credo quasi sicuramente andrò a Biella. Ma prima di Biella c'è la semifinale, domani contro Gerald Melzer? Sì, è la prima volta che lo incontro, però sì, mancino, molto forte al servizio, mi sono allenato un paio di volte e niente, studierò bene come impostare la partita. Comunque è veramente un osso duro, soprattutto in altura gioca sempre molto bene lui, anche a Kitzbühel mi ricordo di averlo visto avanti al torneo, quindi insomma sarà una partita dura ma sono tutte dure, quindi ci proviamo che domani. Grazie a tutti.